Ci chiedono un formulario, con questo formulario dobbiamo pagare le tasse, ma se noi non abbiamo un minimo guadagno. Come facciamo a pagare il formulario a queste benedette tasse? Spiegatecelo voi, perché qua al sud e a altre parti del sud, nelle province di Bari e Provincia, non c'è più niente. Li chiamano rottamai e sono quelle persone, spesso a bordo di un'ape, che vanno alla ricerca di rottami ferrosi nella vicinanza di Cassonetti o nelle zone rurali, dove spesso vengono abbandonati frigoriferi, lavatrici e simili, facendo magari un lavoro utile a molti che le stesse aziende di raccolta non fanno. Dal 1 gennaio però, secondo la nuova normativa, per esercitare l'attività devono presentare un formulario con la quantità di materiale raccolta e relativo guadagno, oltre a non poter più raccogliere certi tipi di metallo. Un problema non da poco visto lo scarso livello di istruzione di molti di loro, che si sono raccolti in protesta sotto il comune di Bari. Siamo diventati barboni noi, non possiamo più sopravvivere, perché non guadagniamo niente. Ulteriormente, facendo quest'ultima legge per quanto riguarda il fatto del formulario, non avete affatto l'ultima goccia che ha fatto travasare il vaso. Perché noi, personalmente, noi gente del Sud, che cerchiamo di sopravvivere con un minimo di sopravvivenza, ce l'avete anche tolto. Ci avete tolto la nostra dignità, la nostra esistenza di sopravvivere. Niente di niente, ci avete tolto tutto. Adesso, fino all'ultima goccia del sangue, ci avete tolto. Non facciamo più niente, non guadagniamo più niente. Noi siamo costretti ad andare vicino le chiese, a cercare ai preti, se ci danno qualcosa per mangiare. Il sindaco De Caro, da noi contattato, sostiene di aver già proposto al governo nazionale di modificare la normativa, limitando le tipologie di metalli proibiti e cancellando il formulario. Ma la strada per i Rottamai sembra ancora lunga. Grazie a tutti.